Musica Buonasera Alla ciurma benvenuti in questo nuovissimo video Dove il vostro capitano preverà per voi I tiktok più virali della settimana Di minecraft E ciurma come sempre vi ricordo di lasciare un mega mi piace Iscrivetevi al canale se volete partecipare Soprattutto all'evento degli snow golem O degli snowmen O dei golem di neve O avete capito insomma si proprio questi qua che state vedendo Vi ricordo che se vi iscrivete a questo canale Oppure a eme Emerald clips Emerald uncut O mi iscrivetevi su tiktok Instagram E il sito viola Avete molti più golem Insomma seguitemi ovunque Ma non sotto casa Quello no No E il primo tiktok di oggi ci fa vedere come creare un illegal secret block Ragazzi la parola illegal Già abbiamo capito che fi Ma che sta facendo con l'ossiliana Sei calmo Eh Mi scu... Eh Ma io sono... Eh non ho capito Ciurma questa è la serie Proviamolo subito Allora ciurma Devo prendere come sempre l'ossiliana Ed eccola qua Gli occhi Dell'end Ed eccoli qua E lo smiting table Ed eccolo qua Qui ci fa vedere naturalmente che si fa così Mette questo qua Ok Ciurma non... Ragazzi Sfatato Finto Fake Che non funziona In realtà mi ha stupito il fatto che sono riuscito a metterlo qui Ma si può mettere qualsiasi oggetto Ok Eh... Fatta sta raga che No Non va Non funziona Eh... Però sono un attimo stranito da una cosa Ovvero che se l'hai givvato Ma non si può givvare Cioè uno non si può givvare quel blocco Quindi come ha fatto ad ottenerlo Comunque ciurma lo sapete che se fate questo comando Ve lo set block Le coordinate End gateway E tutta questa roba qui Ma soprattutto in exit portal E le coordinate Letteralmente Lo potete utilizzare per teletrasportarvi In giro per il vostro mondo di minecraft Guardate un poco Facciamo così Eccolo qua Se ci buttiamo Qui raga Ci troviamo adesso Praticamente A 1 2 3 Che sono le coordinate Che abbiamo messo lì nel comando Giurma qui su tiktok Ci fa vedere praticamente Come creare Una cassa segreta All'interno di una libreria Però ragazzi Sapete una cosa Che ok questo tiktok È veramente carino Eccetera Cioè funzionerà Non funzionerà Adesso andremo a provare Ma non è tanto segreto Quanto Il mio mondo segreto Che potete andare a scoprire Soltanto Se acquistate appunto Il mio bellissimo Libro Fumetto Fumetto Libro Libretto Libro Mostra Questo Link in descrizione Yes Allora ciurma Rieccoci qua Nel nostro mondo di minecraft Ma vi lancio Subitissimo Un'altra sfida 20.000 like E ragazzi Cambierò La mia skin Di minecraft Quindi abbiamo bisogno Delle librerie Perfetto Poi di un pistone Ed eccolo qua Abbiamo bisogno poi Di un kart Con naturalmente La cassa Poi una rotaia Ed eccola qui Infine un blocco di redstone Per attivare il pistone E ce l'abbiamo Facciamo il nostro bellissimo Muro di librerie Perfetto Guardate quanto sono bene ragazzi Le mie librerie Della mia tech Sul pack Vi ricordo La potete ottenere Individete un poco come Facendo l'abbonamento Sul sito viola Non è dove sta il link Esattamente ragazzi In descrizione Direi che come Muro di libreria Ci siamo Facciamo anche ragazzi Una piccola parete dietro Perfetto Perché ho paura Perché poi il kart Tipo sgusci via Dalla parete Da dietro Ok Spacchiamo qui Come nei tiktok Mettiamo la rotaia In minecraft con la ceste Spacchiamo la rotaia E si gira Proprio in quel modo Mettiamo poi Libreria Questo messo così Tac Oh mio dio Non ci credo Ma è scomparso Guarda che c'è la cassa qui Questa la mettiamo qua così Raga Ma se clicco quindi Mi scusi Io Non so come dirlo raga Ma Non mi fa più prendere Il kart Mi scusi Non posso aprirlo Questo è un problema E ciurma dietro Si vedi in questo modo Non vorrei che questo tiktok Bisogna farlo Sulla bedrock edition Proviamola là Ma purtroppo Sulla java Intanto Non funziona Allora ciurma Binario Mettiamo questo Spacchiamo Devo spaccare questo Ok Mettiamo questo qua Questo così Tac Spacchiamo tutto Mettiamo qua E tasto destro E si apre Quindi ciurma Nella bedrock edition Potete creare letteralmente Una cassa nascosta Nella vostra Libreria E non si vede in nessun modo Vieni da dietro Da dietro si Ma tanto verrà coperto Quindi non è un problema E da davanti È completamente invisibile Basta che cliccate Non qua sopra Nella parte inferiore Quindi proprio qua sotto Wow Che figata Ah si E naturalmente ciurma Il tiktok È confermato Ragazzi invece Qui abbiamo Un life hacks Ok Va bene Intanto ragazzi Non perdetevi il video Di dopodomani mercoledì Che vedremo dei life hacks A tema Halloween Fatto sta Eh Fatto questa roba Con la soul sand Le rotaie Ma Ha sballonzolato Proprio sopra le Ok Va bene Ma che dire Proviamolo subito Cioè Ha usato letteralmente Un nuovo metodo Per muoversi in gioco Il minecart Sull'acqua Domani vedremo Non so L'elita dentro la lava Io sono appena Spawnato E letteralmente Ho trovato Una magione Ma in che senso Ma 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 è normale Questo gioco Oppure no Ma come c'è pure Un mob spawner Allora Acciurma Eccoci qua Mi sono messo La net vision Per vedere meglio Sott'acqua E letteralmente Con la mia texture pack È cristallina Cioè Wow Allora Comunque Ve lo facciamo Davanti alla magione Abbiamo bisogno Quindi Del binario Alimentato Poi della pietra rossa Mamma mia che strano Minecraft Ragazzi In italiano Un Vagonetto E poi ragazzi La sabbia Delle anime Dobbiamo fare letteralmente Ragazzi Così Mettiamo questo qua E mettiamo questo così E poi qua sotto Andiamo a mettere Tutto un percorso Fatto con La soul Sand Attenzione ai pesci Che ci intracciano Sempre il percorso Fino dall'altra parte Ed eccoci qua Che siamo arrivati Ora facciamo così Perfetto Mettiamo questo qua E ciurma Penso che abbiamo finito Di che possiamo provare Andiamo qua E Beh Raga sta Sta andando Da solo Ma sta andando Guardate Però mi sono fermato qui Ho notato Ciurma Che lui mette Anche il binario Dentro l'acqua Proviamo a farlo Anche noi Vediamo se saltelliamo Come nel tiktok Ok Saliamo sopra Così E via Yes Raga Stiamo saltellando Andiamo molto più veloce E Raga Ah Eh Ok Ok Vai pentola È il tuo momento Yes Sì Saltella Pentola Saltella Fatto sta ciurma Che comunque Il tiktok È confermato E Si sta divertendo Tantissimo Anche pentola Ma ciurma Dopo tanto tempo Ritorna lui Il Tiktok esplosivo Del giorno E si ciurma Dopo tanto tempo Torna lui Il tiktok esplosivo Del giorno E abbiamo Raga Land Destroyer Guardate qui Ha messo Un sacco Di dispenser Pien di tnt Guardate ciurma Quanta tnt Si sta buttando Dentro il portale Del land E alla fine C'è una cosa Che però non mi piace Perché si butta All'interno Ma non fa dire Che succede Ma io si Proviamolo subito Allora ciurma Come prima cosa Facciamo appunto Il portale Per land Perfetto Fatto questo Direi che adesso Possiamo creare Tutta la struttura Allora questo qui Ragazzi Sarà il punto centrale Dove cadranno Poi tutte Le tnt Perfetto E questo qui Ciurma Invece È per il percorso Dell'acqua Quindi adesso ragazzi Prendiamo Dispenser E naturalmente La tnt E adesso ciurma Piazziamo Tantissimi Dispenser Ma tanti 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 Ottimo E questo qui ciurma L'abbiamo fatto Prendiamo adesso ragazzi Acqua E la mettiamo qua sotto Ok In modo che Tutti i flussi d'acqua Si vanno A collegare Tra di loro Ok Eccellente Eccellente Adesso ciurma Colleghiamo Tutto quanto Con la redstone Mi raccomando Facciamo attenzione Con la redstone Non attiviamo subito I dispenser Con la tnt Sennò Potremmo saltare in aria Perfetto Adesso ciurma Prendiamo due observer Perfetto E poi Un pistone Appiccicoso E infine Una leva Allora ciurma Mettiamo un observer Qua Rompiamo questo Perfetto Sembra tutto funzionare Raga Vediamo Eccellente Beh ciurma Diciamo che il vostro capitano Si è un attimo Rotto le Si Quindi Andiamo di cattiveria Con i command block Perfetto Mettiamo in tutti quanti Ragazzi Repeat Così Proprio ne esponerà All'infinito E adesso ciurma Mettiamo le leve Attiviamo questa Guardate quante Attiviamo questa 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 E questa Beh raga Sarà divertente Non so quante Ne stanno spawnando Vi dico soltanto Che qua davanti a me Ce ne sono Tipo 150 al secondo Raga sono Vabbè Ci vediamo fra 5 minuti 5 minuti Ok ciurma Sono tornato Sono passati 5 minuti esatti E direi che possiamo Stoppare tutto Perfetto Ok E adesso raga Entriamo Nell'end Raga mi si è fizzato Di gioco Raga faccio due fps Raga non mi carica l'end Raga Non è un ferro Immagino Cioè Non è Cioè È È È È È È Ok Raga È partito Raga L'hago L'hago un bordello Beh dai Mi aspettavo peggio Mi sento tipo Super scammato Diciamo che un pochettino Ciurma Mi sono divertito Lo stesso Dai Diciamo che mi va bene così Ma L'end l'abbiamo un pochettino Devastato Va bene così Ciurma Adesso invece Andiamo a vedere Un altro TikTok Che in realtà Il tempo fa l'avevamo visto Ma l'abbiamo fatto A mo' di vanilla Questa volta lo sta facendo Con un command block Ho Ho paura raga Perché Succederà L'inferno Già lo so Beh ciurma Mi direi di provarlo subito Oh mio dio quanta enderpearl Bene ciurma Nuovo tiktok Nuovo mondo Allora intanto saliamo in alto così Perfetto E noi ci spareremo Verso quella direzione Cioè Lancieremo le varie Enderpearl Verso quella direzione E ciurma Dobbiamo fare praticamente Una struttura così Ok Qua ci sarà l'acqua Con la soul sand Eccetera Quindi facciamo così Andiamo a mettere qua Poi la soul sand Perfetto Ok ciurma Allora ho riempito Tutto quanto con l'acqua Qua abbiamo il comando Per summonare L'enderpearl Quindi facciamo Così E come vedete Abbiamo un enderpearl Che rimbalza Perfetto A questo punto Lo attiviamo sempre Lo lasciamo così Ed ecco qua Che stanno andando E nel mentre Prendiamo la tnt E la redstone Mettiamo qua 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 Perfetto Sono quasi 500 100 Ragazzi Mi è felice Stavano Già quel Perfetto Bene direi che Può bastare Ok Oh mio dio Ragazzi Non so se si capisce Quante sono Ma va bene così Proviamo adesso Ad attivare tutto quanto 3 2 1 Via Ciurma Ho paura Oh mio dio Guardate quante E E Beh Non li ha Non li ha Spon Cioè non ci credo Ciurma Pure questo TikTok È Sfatato Finto Fake Fasullo Ciurma Sinceramente Io ci sono rimasto malissimo Non so voi Fatemelo sapere Questo video con un commento Ma già che ci siete Andate a vedere Questo video O quest'altro video E mi raccomando Iscrivetevi al canale Tendo la campanellina Per non perdervi Nessun ottimo video Ciurma Nel vostro Non capite di tutto E come ormai Ogni fine video Arriva sempre lui O